Musica Scontro tra auto e scooter muore 55enne nel Vibonese. Un agricoltore di 55 anni, Gennaro Melluso, è morto in un incidente stradale accaduto lungo l'ex statale 522, nel tratto compreso tra Parghelì e Zambrone nel Vibonese. Melluso era alla guida di uno scooter che per causa in corso di accertamento si è scontrato frontalmente nei pressi di una curva con un'automobile. La morte dell'agricoltore è stata istantanea, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I vigili del fuoco di Soverato hanno recuperato il corpo di una donna morta nel territorio di Stalettì. Ci sono volute diverse ore per recuperare il corpo ormai senza vita di una 45enne originaria di Satriano da parte dei vigili del fuoco di Soverato. Il fatto è accaduto nei pressi della strada panoramica che conduce a Caminia. Sul posto è un'equipe del suo M118 di Montepaone con a bordo il dottore Unillo Leuzzi, che nulla ha potuto fare essendo ormai la donna deceduta. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Gasperina per gli accertamenti del caso, ma si tratterebbe di suicidio. Sul posto anche il sindaco di Stalettì Alfonso Mercurio con il suo vice Rosario Mirarchi. Morto consigliere comunale di Forza Italia Raffaele Iorfida a Vibbo E' morto improvvisamente, probabilmente a causa di un malore, Raffaele Iorfida, consigliere comunale di Forza Italia a Vibbo Valencia. Aveva 58 anni. Il commercialista vibonese si trovava proprio nei pressi della sede del partito. Da dicembre inoltre faceva parte dello staff dell'assessore regionale Rosario Varì. Tanti messaggi di cordoglio che stanno giungendo dal mondo della politica, colleghi e amici, per la prematura scomparsa. Sincero cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Raffaele Iorfida, consigliere comunale di Forza Italia a Vibbo Valencia, politico appassionato, persona per bene. La famiglia azzura calabrese perde un punto di riferimento, un protagonista di tante battaglie, portate avanti sempre nell'interesse dei calabresi. Io perdo un amico vicino al proprio territorio, sempre pronto a mettersi in gioco e a spendersi per gli altri. La giunta della regione Calabria è vicina alla famiglia, in questo momento di grande dolore. Così Roberto Chiuto, presidente della regione Calabria, ha presa la notizia. Il mondo del calcio catanzarese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Teti Il mondo del calcio catanzarese è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Teti, 42 anni, atleta stimato e molto apprezzato. Non è riuscito a vincere la partita più importante sulla malattia. Lo piangono i tanti ragazzi che ha fatto crescere, coltivando il talento con il garbo e la gentilezza che lo contraddistinguevano. È stato capitano del suo velato calcio, tecnico del settore giovanile, allenava l'Under 15 dell'OS Catanzaro. Gratteri, ci aiuti, siamo perseguitate. Tre donne di Torino davanti alla procura di Catanzaro. Siamo perseguitate, veniamo da Torino e vogliamo parlare con il procuratore Gratteri. Da stamane tre donne stazionano con alcuni cartelli in mano davanti alla nuova sede della procura distrettuale. Non si conoscono i dettagli della loro storia che le tre intendono trasferire solo al capo della procura di Catanzaro. Nei loro cartelli invocano un incontro con Gratteri. Ci fidiamo solo di lei, è scritto nei cartelli. Ci aiuti. Tentata estorsione a proprietario Villette. Tre arresti nel Catanzarese. Tre persone, Leonardo Trapasso, Salvatore Macri e Stefano Roberto Cosco, sono state arrestate dai carabinieri Acropani nel Catanzarese con l'accusa di tentata estorsione aggravata dalla modalità mafiose. Reato che sarebbe stato commesso ai danni del proprietario di alcune villette del villaggio turistico Carrao, costretto a pagare, secondo l'accusa, la guardiana abusiva alla cosca di Indrangheta dei Trapasso. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP distrettuale di Catanzaro, Paola Ciriaco, su richiesta della DDA. La vittima della tentata estorsione, secondo quanto è emerso dalle indagini, sarebbe stata aggredita e picchiata in più di un'occasione per costringerla a soddisfare le richieste economiche che le erano state rivolte. Tentativi di truffa online, INPS Calabria. Occhio al mittente. False email agli utenti. Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte email trasmesse dall'Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico, dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online, spiega l'INPS Calabria, con l'utilizzo del logo INPS e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio. Si rammenta che INPS non invia tali comunicazioni via mail e che l'Istituto non trasmette allegati in formato EXE nel link nel corpo delle proprie comunicazioni. Si raccomanda, in tal senso, di adoperare la prudenza di rito e quindi di non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in email o SMS, presumibilmente trasmessi da INPS, non scaricare file allegati in formato EXE, verificare sempre il mittente delle comunicazioni, consultare sul sito dell'INPS il vademecum, attenzione alle truffe, periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute, informare in caso di ulteriori dubbi il nostro contact center 803-164 da fisso oppure 06-164-164 da cellulare o i profili social ufficiali dell'Istituto per un'ulteriore verifica. Fuga di gas da un serbatorio è interrato a Soverato, evacuata una famiglia. Fuga di gas da un serbatoio GPL è interrato, l'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri. Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato presso il residence del Golfo nel comune di Staletti. Considerando la perdita di gas in prossimità di abitazioni, si è provveduto in via precauzionale ad evacuare un nucleo familiare. Per il proseguo dell'intervento è stato anche attivato il nucleo regionale NBCR-LPG per la messa in sicurezza del sito. Il GPL contenuto nel bombolone, 800 litri circa, non potendo essere recuperato è stato direzionato in torcia, bruciandolo in modo controllato. Le operazioni sono terminate in tarda nottata, il serbatorio che serviva a un'abitazione privata è stato bonificato e lasciato in consegna al personale della ditta proprietaria. La polizia locale di La Mezzia sta indagando per cercare di risalire al proprietario o comunque al conducente di un'auto pirata che nella notte ha danneggiato diverse auto. Il fatto sarebbe accaduto nella zona di via Ferlaino, mentre un secondo episodio simile si sarebbe verificato nella zona di via Maggiordomo. Sono in corso accertamenti anche se nelle vie interessate non sarebbero presenti impianti di videosorveglianza pubblica. Si tenta di risalire all'autore con l'ausilio di qualche telecamera privata o di uffici. Finisce in un burrone e si ribalta, anziano salvato dai Vigili del Fuoco. Squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ciro Marina con supporto di autoscala della sede centrale sono intervenuti alle ore 19.40 circa di ieri sulla strada provinciale 7 che collega Ciro Marina con Ciro Superiore per un incidente stradale. Coinvolta nel sinistro una sola autovettura che per causa in costo di accertamento ha perso il controllo finendo in un burrone e ribaltandosi. All'interno del veicolo il solo conducente, una persona anziana, che è stata raggiunta e recuperata dalle unità Vigil Fuoco con procedure e speleo alpino fluviali. Il malcapitato è stato affidato al personale sanitario del SEU 118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Ancora a Roghi in Calabria scoppia vasto incendio di vegetazione nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. Sembrava che gli incendi di vegetazione fossero stati archiviati e invece non è così. Da questa mattina squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sellia Marina sono impegnate per estinguere un vasto incendio di vegetazione nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. Il ruolo sta interessando le colline tra via Tagliamento e via Leisonso in prossimità anche della strada statale 106 Var A. Sul posto 8 mezzi dei Vigili del Fuoco con 20 unità e personale di Calabria Verde. Il ruolo ha interessato anche rifiuti e cataste di gomme che hanno generato un'alta colonna di fumo nero, visibile a distanza, che ha creato non pochi disagi alla popolazione della zona. L'intervento è ancora in corso. Al momento non si registrano danni a persone. Sul posto in supporto alle squadre di terra operano due canader ed elicottero regionale. Una denuncia e due segnalazioni a Serra San Bruno per detenzione di cocaina e marioana. Continua l'attività di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato a Vibo Valencia e provincia per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Questa volta i controlli si sono concentrati nella zona delle Serre Vibonesi dove personale della squadra mobile di Vibo Valencia con la collaborazione della squadra investigativa del commissariato di pubblica e sicurezza di Serra San Bruno ha effettuato un controllo di polizia a carico di un soggetto trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e pertanto denunciato alla procura della Repubblica di Vibo Valencia per il reato di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente. I controlli estesi ad altri soggetti hanno permesso di intercettare un uomo in possesso di circa 15 grammi di marioana occultati all'interno del contatore dell'acqua dell'abitazione. Un altro soggetto nel corso della medesima attività è stato trovato in possesso di una singola dose della stessa sostanza. I due soggetti sono stati segnalati alla locale prefettura per la detenzione ed uso personale della marioana sequestrata. Migranti in 400 messi in salvo da guardia costiera a Crotone La nave di Ciotti della guardia costiera italiana ha messo in salvo circa 350 persone da un motopesca in difficoltà a 50 miglia dalle coste siciliane. Alla nave è stato segnato il porto di Crotone per lo sbarco. Con la moto vedetta 325 invece sono arrivati 26 persone a Pozzallo. Provenienti da Afghanistan e Siria, 11 uomini, 8 donne e 7 bambini maschi, alcuni non accompagnati, erano stati salvati dall'Arizona. Nave da carico, una porta rinfuse, surrotta tra Turchia e Malta. Il trasbordo da Arizona alla CP325 è stato effettuato a 60 miglia sud-sud-est da Portopalo. Molti tra i migranti riportano uscioni per il sole. Sono stati in mare parecchi giorni, tutti trasferiti all'hotspot di Pozzallo. I tamponi anti-covid sono risultati negativi. Trasversale delle serre, il sindaco di Satriano, Chiara Valloti, ennesima figuraccia della minoranza consigliare. È passato poco più di un mese da quando sui giornali, telegiornali e via web, la minoranza consigliare del comune di Satriano annunciava in pompa magna di aver denunciato al prefetto di Catanzaro, con un documento di 7 pagine, le tantissime illegittimità commesse dall'amministrazione comunale di Satriano nell'approvazione della delibera consigliare numero 21 del 18-7-2022, chiedendo addirittura lo scioglimento del Consiglio Comunale. Se la maggioranza non avesse successivamente ritirato l'atto deliberato? Qualche giorno fa è arrivata la risposta del prefetto di Catanzaro, che ha giudicato l'atto conforme alle vigenti disposizioni normative e ai principi enunciati da pronunce giurisprudenziali in materia. In questo caso, la loro inadeguatezza a svolgere il ruolo di consigliere di minoranza non la sta evidenziando il sindaco, l'assessore o il consigliere comunale di maggioranza, che potrebbero esprimere un giudizio di parte, ma la sta certificando il prefetto di Catanzaro. Il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e rivendica la bontà delle proprie azioni riguardo agli atti posti in essere e concernenti la trasversale delle serre. L'infausta sorte in cui sono incappati i cittadini di Satriano, sostiene il primo cittadino, credo sia il termine adatto per indicare la situazione in cui si trovano oggi quei cittadini che avevano riposto la propria fiducia in un progetto civico per Satriano e Orizzonte 2030, che ogni giorno di più si rendono conto di quanto le attuali minoranze siano inadeguate a fare anche solo la minoranza, figuriamoci se avessero fatto la maggioranza. Quasi quasi conclude rimpiango per loro quei momenti in cui la minoranza scriveva al sindaco nell'estate 2021 affinché si prodigasse ad acquistare ventilatori per i cittadini a causa del gran caldo. Ed ora linea Bruno Santoro con il programma della festa di Maria Adolorata del 14 e 15 settembre. E a proposito di gioia, di festa, in particolare in questa settimana c'è due giornate particolarmente importanti, l'esaltazione della Croce e la festa della Adolorata. Mercoledì 14 celebreremo la festa e l'esaltazione della Santa Croce, alle ore 17 celebrerò la messa nella Chiesa dei Pilati, ed è un'occasione in cui pregheremo in modo particolare, lo faccio ormai da quando è che sono sacerdote in questa data, per tutti i cristiani perseguitati a causa della fede. E poi anche un invito, questo che si fa a livello nazionale, che il giorno 14 tutta la Chiesa Cattolica pregherà in modo particolare per la pace nel mondo. Giorno 15 è festa della Beata Vergine Maria Adolorata, proprio in collegamento appunto alla festa dell'esaltazione della Santa Croce, e quest'anno dopo i due anni di pandemia ritorneremo anche a fare la processione. Alle 17 l'appuntamento alla Chiesa dei Pilati, si farà una zona, ogni anno si fa sempre una zona diversa, poi dopo la processione alle 18, dietro la delegazione comunale, saremo ospiti della famiglia di Lina Iozzo, però vedo che c'è uno spazio più grande, ci sarà un momento di festa, della celebrazione eclistica, e anche un momento di festa, che già tutta la zona rionale della Contrale Pilati si sta organizzando anche per questo momento di festa, appunto da stare insieme. Queste piccole feste non sono di meno rispetto alle grandi feste, anzi, sono quelle occasioni in cui tutta la comunità è invitata a vivere la festa nella quotidianità, e quindi anche celebrare insieme la gioia di stare insieme è veramente qualcosa di importante che dobbiamo riscoprire. Festa dello sport a Chiaravalle. Una giornata all'insegna del sano divertimento, quella che si è svolta nel suggestivo giardino del santuario, Madonna della Pietra di Chiaravalle Centrale, un evento organizzato dalla PGS Chiaravalle con il patrocinio della PGS provinciale e dell'amministrazione comunale. Sentiamo in merito le nostre interviste. Bene, quest'anno finalmente, dopo questo periodo di Covid che è stato, purtroppo, ha bloccato tutti, si riparte e si riparte alla grande. Come provinciale abbiamo un sacco di iniziative, tante società, un boom di società e nuove affiliazioni, faremo, a parte il calcio e la palla a volo, che ormai da diversi anni funzionano molto bene. Quest'anno ripartiremo con la danza, con la palla a canestro. Sarà, penso sia veramente un anno di rinascita, perché i ragazzi ne hanno veramente bisogno. Per cui oggi, appunto, con questa giornata, Chiaravalle inizia la sua attività di promozione sul territorio, perché anche lui, da decenni ormai nella PGS provinciale di Catanzaro, fa tanta attività e tanta aggregazione a Chiaravalle. C'è bisogno di ricominciare, come dicevamo, e tanti ragazzi che oggi sono presenti pure a Chiaravalle qui. Sì, c'è bisogno perché ormai questi ragazzi sono rimasti troppo tempo davanti ai computer, per cui hanno proprio bisogno di aria aperta, di sforzo e di aggregazione sociale, soprattutto. Sì, esatto, noi l'intento è proprio questo, con lo spirito di Don Bosco, che lui educava i giovani attraverso lo sport, e noi non facciamo sport fino a se stessi, ma educare i giovani attraverso lo sport. E quindi, come hai detto tu, dopo due anni di pandemia, iniziamo con una festa, giusto per far vedere alla cittadinanza il lavoro che facciamo, e speriamo bene nel proseguo che il Covid non ci sia problemi come gli altri anni. Quindi l'attività facciamo dai mini, micro mini ai grandi, è una bella attività che, ripeto, l'intento è di socializzare, non fare campioni o vincere che sa che, ma noi l'intento è di... I tempi di oggi sappiamo come sono difficili, e quindi, con lo spirito di Don Bosco, cerchiamo di andare avanti nel migliore dei modi. Quest'anno anche la danza? Sì, speriamo, sì, è un progetto che a livello regionale sta portando avanti, speriamo qua nella nostra zona, come Comitato Provinciale, che prima di me ha parlato la Presidente del Comitato Provinciale, cerchiamo di portare avanti tutti gli sport, no, non è che facciamo solo volley, principalmente facciamo attività di volley, però la PGS fa quasi tutti i sport che ci sono. Come hanno risposto i ragazzi a questo vostro invito, a questa iniziativa di oggi? Benissimo, ci sono tante novità, la gente, i genitori sono insusiasti, sia per quanto riguarda il progetto, e sono venuti numerosi. Con Liberata Donato, Vice Sindaco di Chiaravalle, oggi presenta questa iniziativa della PGS, e tanti giovani che si sono avvicinati a questa attività. Sì, molti giovani si sono avvicinati appunto nel mondo dello sport, abbiamo questa PGS che sta lavorando molto sul territorio, ci ha dato l'invito, quindi io porto i saluti, sia del Sindaco che di tutta l'amministrazione comunale, che è sempre presente in ogni tipo di attività che si svolge sul territorio. auguro alla PGS, sia per quanto riguarda i bimbi, sia per quanto riguarda il settore più adulto, quindi sono impegnati anche i genitori, un buon anno, speriamo un anno di ripresa, senza nessuna restrizione, e quindi largo ai giovani, largo ai bambini. Tanti giovani che si avvicinano a questa attività, quest'anno c'è la danza, come vi state preparando? Speriamo di avere molte persone che comunque si uniranno anche alla danza, però speriamo anche di avere altre persone nella pallavola e nel calcio e anche nel basket. Bisogna lasciare i computer a casa e scendere all'aperto e giocare. Certo, è meglio praticare sport, infatti abbiamo installato vari percorsi, abbiamo dato spazio a vari circuiti, e oltre al calcio cerchiamo anche di ingrandire un po' la pallavola, la danza e gli altri sport, che purtroppo nel nostro paese non vengono messe allo stesso livello del calcio, quindi cerchiamo di far crescere anche gli altri sport. Un messaggio per avvicinarsi alla PGS, a tutti i bambini, ma anche a quelli della vostra età? Sicuramente che comunque senza lo sport ormai non si può più vivere, quindi comunque di posare, come hai detto tu, i telefoni e di avvicinarsi di più allo sport e alle nuove attività che comunque si sono aggiunte. Un po' calopo! Grazie! Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco! Badolato, produzione Teatro del Carro, ancora successi per il cortometraggio U Figliu, del regista Tavano, premiato al Festival. Non si ferma la corsa di U Figliu, il cortometraggio scritto e diretto da Saverio Tavano, prodotto da Nastro Di Mobius e Lighthouse Film, con il sostegno della Calabria Film Commission e la produzione esecutiva del Teatro del Carro, che continua a inanellare successi su successi. Con protagonisti Anna Maria De Luca, Fabrizio Ferracane e Francesco Gallelli, il corto è tratto dall'omonimo spettacolo teatrale, sempre prodotto dal Teatro del Carro e vincitore dell'edizione 2010 dei Teatri del Sacro, storico festival marchigiano dedicato alle intersezioni contemporanee, sempre più diffuse fra il teatro, la tensione spirituale e le inquietudini della ricerca religiosa. U Figliu racconta di Saro, ragazzo schizofrenico, convinto di essere un'incarnazione divina, del rapporto che ha con i suoi genitori e del suo furto della corona di spine della statua del Cristo nel giorno di Pasqua. La forza di questo lavoro e della sua trasportazione cinematografica risiede non solo nella qualità del soggetto, della regia e dell'interpretazione, ma anche nella cura verso il luogo in cui è ambientato e girato, badolato, divenendo il mezzo per una raffinata valorizzazione territoriale. A maggio il corto di Tavano ha vinto il premio Cultura Cinematografica come migliore regia consegnato all'autore direttamente da Mimmo Calopresti, tra i giurati della manifestazione durante la quale U Figliu ha anche vinto il premio degli studenti di Polistena come miglior cortometraggio consegnato all'interprete principale Francesco Gallelli. Prima ancora U Figliu era stato presentato ufficialmente in prima nazionale all'ultima edizione del concorso corto d'orico di Ancona diretto da Daniele Cipri dove tra i sette in gara si è giudicato il premio CGS Acec Sentieri di Cinema. A fine luglio poi al Popcorn Festival del corto di Porto Santo Stefano Monte Argentario dove tra i giurati c'era Federico Moccia si è giudicato il premio come miglior cortometraggio tra le opere prime così come a Palmi per la prima edizione dello stretto Film Festival dove ha ricevuto da Peppino Mazzotta il premio come miglior corto. A Crotone al Calabria Short Movie Film Festival U Figliu ha ottenuto una bella tripletta aggiudicandosi il premio come miglior attore per Francesco Gallelli Saro miglior corto in Calabria e il premio del pubblico. A fine agosto sono arrivati il premio Film Fest Città Metropolitana di Reggio Calabria e i premi come miglior corto e miglior attore a Francesco Gallelli all'Azzurra Film Festival di Oppido Mamertina. Nell'occasione ad Anna Maria De Luca è andato il premio alla carriera di conoscimento che va ad impreciosire il momento d'oro dell'attrice tra i protagonisti del pluripremiato film Una femmina di Francesco Constabile per conto del quale De Luca ha ritirato il premio come miglior film all'ultimo Magna Grecia Film Festival. La corsa di Ufiddu tornando ai nostri continua nei prossimi giorni il cortometraggio sarà tra i finalisti del Fernando Di Leo Short Film Festival in Puglia e volerà a Monaco di Baviera per il Monacorti Film Festival che con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale intende promuovere il valore della lingua e della cultura italiana all'estero attraverso la presentazione di opere di autori italiani. Grande partecipazione a Torre di Ruggero per i funerali di Soranna Iacotucci La comunità di Torre di Ruggero e i fedeli del comprensorio si sono stretti al dolore che ha colpito la famiglia Iacotucci per la morte di Soranna. Sabato si sono svolchi i funerali presenti il sindaco e l'amministrazione comunale di Torre di Ruggero le suore dell'istituto Maria Immacolata di Chiaravalle Centrale la misericordia e numerose persone a corse tutte commosse per la dipartita dell'amata e instancabile Soranna. La salma è uscita alle 15.25 dalla casa del pellegrino di Torre di Ruggero attivo al santuario di Torre dove Soranna insieme alla consorella della congregazione di Santa Dorotea Frastinetti di cui facevano parte ha per tanti anni svolto la sua missione. I funerali hanno avuto luogo nel santuario ufficiati da Monsignor Pino Silvestre con la partecipazione del parroco di Torre Ruggero Don Orazio e di vari sacerdoti. Soranna 78 anni di provenienza campana era presente a Torre Ruggero da più di 20 anni e qui oltre ad aver prestato il suo immancabile e devoto servizio al santuario nella cura dello stesso nelle funzioni inconfondibile la sua voce nella recita del Santo Rosario e nei canti che animavano le messe e le liturgie. Ha prestato anche servizio come insegnante di religione nelle scuole primarie di Torre di Ruggero e nella catechesi. Non ha fatto mancare la sua vicinanza e la sua parola di conforto a chiunque le si rivolgeva. Sempre disponibile attente e affettuosa persona sensibile e di cultura è stata la suora di tutti e soprattutto la suora del santuario di Maria Santissima delle Grazie e nel cimitero antistante il santuario suor Anna è stata sepolta per sua volontà come aveva lasciato detto voglio stare ai piedi della Madonna delle Grazie diposa in pace suor Anna e prega per noi che non ti dimenticheremo mai per Tele Ionio Anna Maria Colabrano grazie a tutti Grazie a tutti.